Amici di Facebook, primo febbraio, il comandante Amarasco che vi parla è con l'ispettore Tommaso Mangini. Stiamo qui alla rotatoria, quando si esce Manfredonia o si entra nella zona di Monticchio, e qua porta al porto industriale verso Leclerc, Monte Sant'Angelo, va bene, però c'è un problema gravissimo. Questo è il marciapiede per i pedoni che vanno a Leclerc. È grave la situazione. Allora, Tommaso, di che cos'è che si tratta? È possibile abbandonare rifiuti del genere in questi posti qua? Ma ad occhio non si vede, però secondo me è un civile. Ecco, guardate, guardate, guardate in questo canalone, guardate qua dovrebbe passare il scolo delle acque, un passaggio d'acqua, guardate, guardate se faccio ingrandimento dentro, è pieno, 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 pieno di rifiuti. Questo ostruisce anche in caso di pioggia il passaggio dell'acqua. E allora, che dire, Tommaso, la civiltà... La civiltà, non lo so, non ho parole, la gente ignorante, non capisce, fa delle cose senza cercare il mondo del territorio. Bene, amici, a voi i commenti. E condividete, che stiamo proprio messi male, gli umanoidi, fate schifo! Bene, amici, a voi i commenti.